Come anticipavo a conclusione della prima parte, che è stata più espositiva di una serie di modifiche che sono state introdotte, non abbiamo indicato tutto per questione di tempo, però abbiamo in qualche maniera ripercorso lo scheletro fondamentale delle modifiche introdotte dal decreto legge nella parte riguardante migranti. Questa seconda parte invece la dedichiamo innanzitutto agli interrogativi che inevitabilmente viene da porsi rispetto alla gestione della fase intertemporale, cioè sono state introdotte delle modifiche normative tra l'altro attraverso lo strumento del decreto legge salto completamente tutta la valutazione sulle incostituzionalità che caratterizzano l'utilizzo di questo strumento in una materia di questo tipo e nel contesto in cui è stato inserito il decreto legge perché appunto come si diceva nell'introduzione non sussistevano i presupposti per ricorrere a una decretazione d'urgenza, però lasciamo stare e passiamo oltre. Le modifiche introdotte dal decreto legge sono immediatamente operative e quindi questo pone un problema molto serio rispetto alla gestione dei procedimenti in corso e anche alla gestione di tutte quelle situazioni che nel frattempo hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari che poi andrà in scadenza e che quindi poi dovrà fare i conti col nuovo quadro normativo. Allora il decreto legge dedica alla gestione di questa fase intertemporale due numeri dell'articolo 1, ovvero sia il numero 8 e il numero 9 che se non erro sono riportati alle mie spalle in maniera che così possiamo insomma averne la visione mentre ne discutiamo. Il numero 8 è dedicato alla gestione dei permessi per motivi umanitari già in essere e che cosa prevede il numero 8? Il numero 8 dice fermo restando i casi di conversione ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto, essenzia eccetera eccetera, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto è rilasciato alla scadenza un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32,3, quello attuale, quindi un permesso di soggiorno per protezione speciale, previa valutazione della competente commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di quell'articolo 19,1 e 1.1. Quindi in sostanza che cosa dice il numero 8? Per tutti coloro che hanno già in essere un permesso di soggiorno per motivi umanitari che cosa succede? Che alla scadenza, salvo, fermo restando i casi di conversione, quindi c'è la possibilità di convertire alla scadenza il permesso di soggiorno in altri permessi di soggiorno, cosa assolutamente da raccomandare, cioè tutti coloro che hanno la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che lo facciano perché sarà l'ultima possibilità di conversione che avranno. Perché l'ultima? Perché fermo restando i casi di conversione, alla scadenza verrà rilasciato il nuovo permesso di soggiorno previsto dall'articolo 32,3 e cioè il permesso di soggiorno per protezione speciale. Questo permesso di soggiorno ha la durata di un anno, quindi non ha la durata biennale del permesso per motivi umanitari, ma soprattutto il permesso per protezione speciale non è assolutamente convertibile, cioè quel permesso lì non si potrà mai più convertire, quindi resterà per sempre un permesso per protezione speciale. E questo è un problema molto serio alla luce di quanto viene aggiunto sempre al numero 8 successivamente, cioè che il permesso per protezione speciale viene rilasciato alla luce dei presupposti previsti dall'articolo 19,1 e 1.1. Erano quei presupposti che analizzavamo nella prima parte. Cioè il nuovo permesso per protezione speciale può essere rilasciato solo se ricorrono quei presupposti che come abbiamo visto ricalcolano più o meno quelli già previsti per la protezione sussidiaria e per lo status di rifugiato. Quindi persecuzione e rischio di tortura. Ora qui siamo veramente al paradosso. Perché? Perché se io ho ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, supponiamo per integrazione sociale, ho avuto un percorso di integrazione e mi è stato riconosciuto che questo percorso di integrazione mi dava la possibilità di avere permesso per motivi umanitari. Ora, anche nella normativa previgente era previsto che il permesso di soggiorno per motivi umanitari giunto alla scadenza venisse rilasciato sul parere della Commissione, sul nuovo parere della Commissione. Ma prima il parere della Commissione doveva essere dato sulla base dei motivi che avevano determinato il rilascio di quel permesso. Cioè, se il permesso di soggiorno per motivi umanitari era stato dato, supponiamo, per integrazione sociale, la Commissione doveva dare il parere circa l'attuale sussistenza di quelle condizioni. Ora, invece, viene previsto che il nuovo permesso per protezione sociale sia dato esclusivamente se sussistono le condizioni di quell'articolo 19. Cioè, il rischio di tortura e il rischio di persecuzione. Il che è assolutamente un assurdo, perché questo significa che gran parte dei permessi di soggiorno per motivi umanitari non verranno più, non verranno convertiti, non verrà neanche dato il permesso per protezione speciale. E qui siamo veramente alla irrazionalità assoluta. Perché se io ho avuto un permesso per determinati motivi, è giusto che la Commissione valuta se questi motivi sono ancora sussistenti. Ma è assolutamente illogico che la Commissione valuti la sussistenza di motivi per i quali non mi è stato rilasciato quel permesso. Questo significa, quindi, che dentro il numero 8 è contenuto un trucco gravissimo. Un trucco che dice, sì, il permesso per motivi umanitari che hai, può essere, al posto di quel permesso lì, ti può essere dato un permesso per protezione speciale. Ma verificando che sussistano le condizioni di quell'articolo 19. Se quelle condizioni non sussistono, il permesso non ti viene rilasciato. Quindi, innanzitutto, come dicevo prima, è importante chiunque abbia la possibilità di farlo, di procedere ad una conversione del permesso per motivi umanitari in altro tipo di permesso. Però, al di là di questo, la normativa, la disciplina che viene dettata per questa situazione, diciamo così, intertemporale, per questo passaggio, è assolutamente illogica e incostituzionale. Perché poi, insomma, fa parte dei principi costituzionali anche il principio della ragionevolezza. Il principio secondo cui, appunto, i diritti non sono alla mercè di qualsiasi arbitrio, no? Per cui, dire che il mio permesso di soggiorno viene valutato alla luce di parametri completamente diversi rispetto a quelli sulla base dei quali mi è stato dato, è veramente un assurdo. È veramente un assurdo e che sostanzialmente equivale, equivarrà in molti casi, ad una revoca. Cioè, di fatto, il permesso verrà, in moltissimi casi, revocato. Perché non verranno rinvenute da parte della Commissione, che dovrà esprimere il parere, non verranno rinvenute le condizioni per rilasciare il permesso per protezione speciale. Quindi, certamente questo sarà oggetto di azioni giudiziarie. Cioè, dovremo vedere come poi gestire questa marea di rifiuti, di rinnovo, di rilascio del nuovo permesso di soggiorno. E comunque, anche nel caso in cui dal permesso di soggiorno per motivi umanitari riuscissi a passare, casi secondo me molto marginali, al permesso per protezione speciale, saresti comunque sottoposto alla tagliola di un permesso di soggiorno che non potrà mai più essere convertito. Quindi resterai bloccato con questo permesso della validità di un anno, che tra l'altro, quindi, essendo valido solo un anno, comporta tutta una serie di limitazioni, anche dal punto di vista delle prestazioni sociali ed assistenziali, e resterai vincolato per sempre. Fino a quando un giorno ti diranno, non ci sono più le condizioni, te ne vai. Quindi, il numero 8 gestisce, diciamo così, la situazione dei permessi di soggiorno umanitari, per motivi umanitari, già in essere, e li gestisce attraverso un dispositivo chiaramente incostituzionale, chiaramente illogico, chiaramente ingiusto, che dovremo cercare sicuramente di, in qualche maniera, abbattere, se non cambia qualcosa in sede di conversione, anche attraverso le azioni giudiziarie che potremmo intraprendere. La seconda ipotesi, invece, il numero 9, riguarda i casi dei procedimenti in corso, cioè quei procedimenti per i quali non è stato ancora dato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Però, anche il numero 9 presenta delle illogicità evidenti. Perché? Perché dice, nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti i gravi motivi di carattere umanitario, quindi non si sta parlando di tutti i procedimenti in corso, ma solo di una specifica categoria. Cioè, quei procedimenti per cui la Commissione, all'interno dei quali la Commissione, ha già fatto la valutazione, ha già escluso la protezione internazionale, ha già ritenuto comunque che siano riconoscibili i motivi umanitari, però ancora non sono arrivati al punto tale da determinare il materiale rilascio del permesso di soggiorno. Questa è la categoria di procedimenti in corso che viene trattato dal numero 9, ma questa è solamente una minima parte dei procedimenti in corso. Abbiamo i procedimenti per i quali ancora deve essere fatto il colloquio in Commissione, abbiamo i procedimenti che giacciono in sede giudiziaria, quindi i procedimenti in corso sono tanti. Qui ne viene menzionata solamente una minima parte, dando per scontato che tutto il resto non conti, che tutto il resto non debba essere considerato procedimento in corso e quindi avrà il suo iter secondo la normativa ordinaria dettata dal decreto legge. Per i procedimenti in corso, nell'accezione che ho appena detto, il numero 9 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno recante alla dicitura casi speciali, della durata di due anni convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno si procede secondo il numero precedente. Cioè quindi cosa significa? Significa che ai sensi del numero 9, nei procedimenti in corso qualificati come vengono qualificati dal decreto legge, che cosa succede? Viene rilasciato un permesso per casi speciali, quindi non è un permesso per protezione speciale, ma un permesso per casi speciali. Prima abbiamo visto che ci sono altri permessi denominati per casi speciali, hanno ridenominato così anche alcuni permessi già esistenti. Questo chiamiamolo, per capirci, un permesso per casi speciali straordinario, che viene dato proprio espressamente in questo tipo di situazione. Quindi quando c'è un procedimento in corso, per cui la Commissione ha già ritenuto sussistenti i motivi umanitari, in questo caso viene rilasciato un permesso per casi speciali che ricalca una dinamica similare a quella del permesso per motivi umanitari, in una prima fase, nel senso che ha la durata di due anni e può essere convertibile. Però solo in una prima fase, perché poi se questo permesso di soggiorno straordinario per casi speciali non lo converti, quando andrà in scadenza succederà quello che è previsto al numero 8, cioè ti verrà dato un permesso per protezione speciale e ricadrai nell'imbuto di cui parlavamo prima. Però diciamo che in prima battuta il permesso per casi speciali previsti dal numero 9 è più garantista rispetto a quello previsto al numero 8, anche perché poi ti dà la possibilità di avere un tempo di due anni e anche una convertibilità. La convertibilità è sempre una volta sola, ci rimane solo un'opzione. Se non converti poi prendi la protezione speciale. Ora, l'interpretazione, l'indicazione che viene da, la qualifica che viene data di procedimenti in corso è chiaramente inaccettabile, perché non consente di gestire tutto il resto delle domande che sono in essere in questo momento e che non sono arrivate al punto in cui la Commissione comunque ha già fatto la valutazione sui motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare il 15 ottobre, si sperava che magari su questo punto si facesse chiarezza positiva, invece viene fatta chiarezza negativa, cioè si ribadisce che vengono considerati i procedimenti in corso solamente quelli per i quali la Commissione ha già valutato la sussistenza dei motivi umanitari. Allora, che cosa fare in questa situazione? E questo è un interrogativo che dobbiamo affrontare in maniera molto seria, perché poi condizionerà anche quello che andremo a fare le prossime settimane. Per affrontare seriamente il problema dobbiamo fare un attimo il quadro normativo e dei principi di diritto che regolano quello che in termini tecnici viene chiamato lo use supervenience, cioè il diritto sopraggiunto, quando ci sono delle modifiche normative e ci sono dei procedimenti in corso che stanno trattando delle determinate posizioni soggettive. Ora, nel nostro ordinamento vige il principio generale di irretroattività della legge. Normalmente la legge deve disciplinare le situazioni future, non dovrebbe disciplinare le situazioni passate, perché quando vai a toccare le situazioni passate introduce un elemento di incertezza del diritto che ha una serie di implicazioni e di conseguenze. Questo principio di irretroattività della legge, però, come più volte ribadito anche sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, non è un principio assoluto, o meglio, è un principio assoluto solamente in materia penale. In materia penale è impossibile fare una legge che abbia valenza retroattiva. In materia civile, e noi comunque qui vertiamo in materia civile, quindi in materia civile e amministrativa, invece la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno detto più volte che questo principio non è assoluto. Può verificarsi anche la possibilità che il legislatore adotta dei provvedimenti che in qualche maniera influisce sulla regolamentazione di situazioni precedenti. Questo è vero, ma è anche vero, però, che il grado di vincolatività del principio di non retroattività della legge è anche proporzionato al diritto che è coinvolto. Cioè, noi in questo caso parliamo di diritti soggettivi di grande spessore, diritti fondamentali della persona. Quindi, in questo caso, il principio di irretroattività è un principio che dovrebbe presidiare in maniera abbastanza rigorosa l'attività del legislatore. Tuttavia, questo non ci mette, diciamo così, al riparo da possibili provvedimenti normativi che influiscono anche su situazioni precedenti. Allora, che chiave di lettura diamo a questo contesto giuridico? Ci sono diverse, diciamo così, teorie relative proprio allo just supervenience, cioè al diritto che sopravviene rispetto alle situazioni passate. Ci sono diverse teorie. Io credo che, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda appunto il problema di diritti soggettivi di particolare valenza, sostanzialmente assumano rilevanza due chiavi di interpretazione, due chiavi di lettura. La prima, che possiamo chiamare teoria integrale del fatto compiuto. Cioè, in base a questa teoria, la legge comunque non può andare ad incidere su posizioni sostanziali che si sono determinate precedentemente. Cioè, su diritti che si sono maturati in base alla normativa precedente, non può intervenire la normativa successiva. e questo in termini, diciamo così, generali, integrali. Cioè, la normativa successiva non può intervenire né sull'insorgere del diritto sulla base della vecchia normativa, né sugli effetti che questa insorgenza del diritto determina. Quindi, il fatto compiuto, se il fatto si è compiuto in base alla normativa precedente, il fatto stesso e tutti i suoi effetti devono essere regolati dalla normativa precedente, perché non possono essere regolati da quella sopravvenuta. Questa, appunto, diciamo così, è un po' la teoria del fatto compiuto. Ed è una teoria che qui trova, a mio avviso, un forte riscontro. Perché? Perché quando noi parliamo di diritto alla protezione internazionale, diciamo, sempre in termini tecnici, che il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale è sempre di natura dichiarativa. Cioè, quando io dico ti riconosco il diritto alla protezione internazionale, faccio una dichiarazione di un diritto che però già si è costituito da solo. Il diritto alla protezione internazionale nasce in sorgere nel momento in cui si verificano i suoi presupposti. Cioè, nel momento in cui io, ad esempio, sono sottoposto ad una persecuzione, quindi mi sottraggio alla persecuzione e faccio richiesta di protezione internazionale, io sono già titolare del diritto alla protezione. Non c'è un giudice o un'autorità amministrativa che mi deve dichiarare l'insorgenza del mio diritto. Perché il mio diritto è già sorto. È sorto nelle condizioni materiali che hanno prodotto il bisogno di protezione. Cosa fa allora il giudice o l'autorità amministrativa? Semplicemente dichiara che quel diritto già c'è. Se ne ravvisa i presupposti, se invece dice no, guarda, questo è tutto inventato, dichiaro che quel diritto non c'è. Ma non lo costituisce il giudice e non lo costituisce la commissione. Quindi, questo significa che il diritto alla protezione internazionale, rispetto al sopravvenire della normativa del decreto legge per chi ha già fatto richiesta di protezione internazionale, è già un diritto sussistente indipendentemente dal dal suo riconoscimento dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa. Ora, questa condizione di fatto che fa insorgere il diritto quando diventa rilevante per l'ordinamento giuridico italiano. Qual è il momento? Su questo possiamo fare diverse ipotesi. È il momento in cui si formalizza il C3? Io personalmente ritengo che qualsiasi fatto, cioè nel momento in cui il richiedente giunge in territorio italiano e manifesta in qualsiasi forma la sua volontà di chiedere la protezione internazionale, in quel momento già è titolare del diritto alla protezione internazionale. Già il diritto alla protezione internazionale si è formato se sono veri i suoi presupposti. Poi un giorno qualcuno potrà dire no, i presupposti non esistevano. Però il fatto si è già compiuto nel momento in cui se un giorno mi viene riconosciuta una qualche forma di protezione, il fatto che da luogo alla protezione che mi viene riconosciuta si è già compiuto nel momento in cui ho dichiarato, ho rappresentato allo Stato italiano la mia volontà di chiedere la protezione internazionale. Ora, in questo caso se ci muoviamo secondo questa chiave di interpretazione in realtà i procedimenti in corso sono tutti quelli per i quali i richiedenti hanno espresso la volontà di chiedere protezione internazionale fino alla data di entrata in vigore del decreto legge anche se ancora magari non hanno formalizzato il C3 oppure hanno ancora formalizzato il C3 ma non sono stati ancora portati alla Commissione. Cioè tutti quei procedimenti che si sono determinati da una espressione di volontà di richiesta di protezione internazionale precedente all'entrata in vigore del decreto legge sono procedimenti in corso dove il diritto il fatto che da luogo al diritto è un fatto compiuto in base alla normativa precedente. E rispetto a questo io credo che la chiave di lettura sia più che solida perché è evidente che se io in base a una normativa pregressa maturo un diritto è inevitabile che questo diritto in qualche maniera trovi modo di esprimersi di essere attuato nonostante che poi dopo la normativa si modifichi se il diritto si è già formato in base alla normativa precedente. Ora rispetto a questa chiave di lettura che quindi diciamo narra questa interpretazione del fatto compiuto per cui se il fatto si è verificato prima dell'entrata in vigore della nuova legge il fatto stesso e tutti i suoi effetti devono essere disciplinati dalla normativa precedente rispetto a questa interpretazione ce n'è un'altra che potrebbe diciamo così a sua volta però avere una sua credibilità una sua agibilità dentro questo discorso e cioè la teoria chiamiamola così della retroattività apparente che cosa dice questa teoria concorda con quella precedente sul fatto che un fatto compiuto nella vigenza di una norma precedente deve essere disciplinato dalla norma precedente però distingue tra il fatto che si è verificato e i suoi effetti quindi dice il fatto rimane disciplinato dalla norma precedente ma i suoi effetti se si protraggono nel tempo e arrivano ad un tempo in cui c'è una norma diversa i suoi effetti possono essere disciplinati dalla norma nuova il fatto rimane disciplinato dalla norma precedente ma i suoi effetti dalla norma successiva perché gli effetti si protraggono nel tempo in cui viene ad operare la norma successiva rapportata a questa teoria al problema che noi abbiamo di fronte che cosa succederebbe succederebbe questo cioè che il fatto ovvero sia la sussistenza del diritto alla protezione umanitaria deve essere valutato in base alla normativa precedente perché quello si è già verificato prima dell'entrata in vigore del decreto legge quello che potrebbe cambiare però sono i suoi effetti e quindi nello specifico la tipologia di permesso di soggiorno che viene rilasciato se io dico il fatto e i suoi effetti vanno regolati tutti dalla normativa precedente io oggi dovrei dire che chi ha fatto richiesta di protezione umanitaria deve essere valutata la sua richiesta in base alla normativa sulla protezione umanitaria e gli dovrebbe essere dato un permesso di soggiorno per motivi umanitari se io dico faccio invece mia la teoria della retroattività apparente secondo cui il fatto deve essere valutato in base alla normativa precedente ma i suoi effetti in base alla normativa nuova allora dovrei dire che chi ha chiesto la protezione umanitaria ha diritto che la sua situazione venga valutata dal punto di vista della protezione umanitaria in base ai parametri precedenti ma poi però il permesso di soggiorno che gli viene rilasciato deve essere rilasciato in base alla normativa attuale quindi valutazione dei motivi umanitari in base ai parametri pregressi ma poi a questa valutazione se viene riconosciuta la tutela si associa il permesso di soggiorno come schematizzato dal decreto legge attualmente in vigore ora se noi ci attestassimo su questa seconda interpretazione che dal punto di vista astratto teorico diciamo così è un po' meno è meno garantista della prima ma dal punto di vista pratico però forse quella più realistica se noi ci attestiamo a questo su questo terreno noi dovremmo dire sostanzialmente che la gestione delle richieste per motivi umanitari dovrebbe oggi concretizzarsi in questi termini cioè io ho una richiesta di motivi umanitari valuto la richiesta in base ai criteri precedenti e quindi posso far entrare nella valutazione tutte quelle casistiche che oggi non ci entrano più poi una volta che io decido che i motivi umanitari ci sono gli associo una delle tipologie di permesso di soggiorno invece attualmente in vigore perché poi permesso di soggiorno per motivi umanitari effettivamente non c'è più quindi è un problema anche se ti viene riconosciuto poi farselo dare ma se andiamo in questa se ci muoviamo secondo questa ipotesi il permesso che eventualmente dovrebbe essere rilasciato dovrebbe essere sicuramente quello del numero 9 certamente quello del numero 9 perché il numero 8 cioè quello che ti dice vai direttamente alla protezione speciale se non hai convertito il permesso per motivi umanitari non è evidentemente applicabile perché il numero 8 parla di permessi di soggiorno già in essere e se non lo converti passi alla protezione speciale quindi quel numero lì quella previsione lì non può essere applicata a situazioni a cui viene riconosciuta la protezione umanitaria ma che ancora non hanno visto insorgere il permesso di soggiorno per motivi umanitari quindi l'altra soluzione l'unica soluzione possibile è quella del numero 9 che comunque per quanto ci riguarda diciamo così sarebbe il male minore nel contesto che si è venuto a creare perché perché intanto riesco a farmi riconoscere la protezione umanitaria poi ci associo un permesso di soggiorno che anche se non viene chiamato per motivi umanitari di fatto nella sua prima fase di vita ha gli stessi contenuti perché dura due anni è convertibile d'altra parte se per qualche motivo fortunato mi venisse rilasciato un permesso per motivi umanitari comunque alla fine finerei sempre nella tagliola del numero 8 cioè comunque andrei a finire prima o poi nel permesso per protezione speciale quindi adesso la cosa migliore sarebbe proprio sostenere diciamo così questa eventuale ipotesi di lavoro allora intanto i procedimenti in corso non possono essere solamente quelli per i quali la commissione ha già espresso la valutazione sugli umanitari i procedimenti in corso sono tutti quei procedimenti che nascono dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale espressa fino al momento dell'entrata in vigore del decreto legge tutti questi procedimenti devono essere considerati procedimenti in corso rispetto a questi procedimenti la commissione quello che deve fare la commissione cioè quello previsto dal numero 9 la commissione a mio avviso e se così non fosse dovremmo poi agire a livello giudiziario la commissione dovrebbe attenersi al numero 9 però interpretandolo della circolare di Salvini ci interessa poco nel senso quella è una sua valutazione è vero che l'ha scritto lui e quindi però nel mondo giuridico non funziona così la circolare è una circolare e non ha efficacia sopraelevata rispetto al testo al testo di legge quindi sovraordinata quindi noi diamo l'interpretazione che riteniamo corretta l'unica interpretazione corretta del numero 9 per quanto riguarda l'operato della commissione è dargli il significato di una sorta quella strana cosa che nella nostra grammatica un po' si chiama come futuro anteriore cioè in realtà il pezzo dovrebbe essere scritto in questi termini cioè che la commissione rilascia il permesso per casi speciali in tutti i casi in cui la commissione avrà ritenuto sussistenti i gravi motivi umanitari non ha non passato prossimo avrà ritenuto sussistente perché è innegabile su questo io sono sicuro che vinciamo in sede giudiziaria è innegabile che i procedimenti in corso sono la moltiplicità dei procedimenti di cui parlavo prima e non solo quelli indicati al numero 9 quindi per tutti i procedimenti in corso intesi nella maniera che dicevo poco fa la commissione dovrà applicare l'articolo 9 valutando la sussistenza dei motivi umanitari in base alla normativa precedente e la stessa cosa a mio avviso si verifica in sede giudiziaria cioè noi per tutte le manifestazioni di volontà di richiesta di protezione internazionale precedenti al decreto legge dobbiamo continuare a chiedere in sede giudiziaria la protezione umanitaria dobbiamo assolutamente continuare a chiederla abbiamo diritto di chiederla facendo quel ragionamento che facevo prima sul just supervenience cioè non può essere modificata una situazione sostanziale che si è già venuta a configurare ora a livello giudiziario che cosa può succedere noi spesso nei nostri ricorsi chiediamo in quelli precedenti chiediamo rilascio riconoscimento della protezione umanitaria e rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari io su questo metterei qualche cautela io nei miei ricorsi non la metterei in questi termini perché perché se l'autorità giudiziaria riconoscesse i motivi umanitari e disponesse rilascio del permesso per motivi umanitari non sappiamo come questa cosa finirà con l'essere gestita dalla questura e dalla pubblica amministrazione perché potrebbero anche portarci dentro il numero 8 dice va bene è stato riconosciuto il permesso per motivi umanitari io ti do immediatamente quello per protezione speciale è un po' rischioso io penso che sarebbe più garantista invece approdare all'ipotesi del numero 9 quindi o siamo sicuri che il giudice questa è una mia valutazione o siamo sicuri che il giudice riconosce i motivi umanitari e da indicazione per il rilascio del permesso per casi speciali straordinario previsto dal numero 9 che quindi a noi ci dà due anni di tempo la convertibilità eccetera o siamo sicuri di questo oppure è meglio che il giudice si pronunci solo sul riconoscimento dei motivi umanitari perché il giudice non è tenuto poi ad indicare il permesso di soggiorno che deve essere dato l'importante è che riconosca i motivi umanitari poi l'incongruenza sarà un problema dell'amministrazione che si troverà un riconoscimento dei motivi umanitari e il problema è di associarci un permesso di soggiorno e se lì ci associassero un permesso per protezione speciale noi comunque potremmo impugnare in sede giudiziaria e contestare questa decisione però io credo che nel quadro che si è dato la situazione più garantista è quella di ottenere il permesso per casi speciali di cui al numero 9 per i procedimenti in corso perché tutto sommato è quello che dal punto di vista pragmatico ci tutela di più anche se dal punto di vista prettamente teorico sarebbe più giusto dire che per i procedimenti in corso forse dovrebbe essere rilasciato direttamente un permesso per motivi umanitari ma vi assicuro che questa cosa va poco lontano cioè ci troveremo di fronte a una situazione poco gestibile invece il permesso per casi speciali di cui al numero 9 è gestibile possiamo farci battaglie sopra se non ci viene dato quindi in sede giudiziaria io porrei riconoscimento dei motivi umanitari non chiederei il rilascio del permesso per motivi umanitari chiederei solo il riconoscimento della protezione umanitaria salvo che non sia chiaro l'intendimento del giudice nel rilasciare nell'indicare il rilascio del permesso per casi speciali di quel numero 9 allora in quel caso possiamo anche metterlo nelle nostre richieste altrimenti secondo me forse è meglio limitarsi alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria perché noi non siamo tenuti a indicare il tipo di permesso di soggiorno che andrebbe associato faccio faccio presente che questo tipo di soluzione questa chiave di lettura è assolutamente rivendicabile giusta corretta anche perché oltre alle teorie che abbiamo esaminato fino a questo momento quindi il rapporto tra il diritto che sopravviene la norma che sopravviene e il diritto che si è già formato oltre a questo c'è anche un problema di rispetto dei principi generali costituzionali di parità di trattamento e di ragionevolezza perché allora se non applicassimo questa chiave di lettura che cosa può succedere può succedere che a seconda di quanto sono andate veloci le commissioni in un territorio o nell'altro a seconda di quando la mia richiesta è pervenuta oppure è stata trattenuta cioè in base ad una serie di variabili che dipendono esclusivamente dalla pubblica amministrazione si verrebbero a determinare effetti assolutamente differenti per cui per esempio uno che ha fatto un richiedente che ha fatto la richiesta magari dopo di me sono andati più veloci al momento del decreto legge dell'entrata in vigore del decreto legge la commissione ha già valutato i suoi motivi umanitari e quindi magari va nel numero nel numero nove e io che magari ho presentato la richiesta prima ma la mia commissione per qualche motivo è stata più lenta invece ha un trattamento completamente diverso questo è inimmaginabile in uno stato di diritto cioè noi dobbiamo dare un'interpretazione che salvaguardia oltre che i principi di cui abbiamo parlato prima anche i principi generali di parità di trattamento e di ragionevolezza per cui a parità di condizioni o a condizioni similari devono corrispondere trattamenti similari e non profondamente differenziati così come deve essere rispettato il principio secondo cui i ritardi della pubblica amministrazione non possono giuridicamente andare a detrimento del cittadino qui cittadino inteso non in senso stretto ma in senso ampio come soggetto sottoposto all'autorità potestativa della pubblica amministrazione quindi l'insieme di questi elementi ci permettono di dire che l'interpretazione corretta e sostenibile è proprio quella che abbiamo in qualche maniera riassunto adesso in queste ultime battute per cui procedimenti in corso tutti tutti quelli per cui è stata in qualche maniera espressa la volontà di richiesta prima del decreto legge e valutazione dei motivi umanitari in base alla normativa precedente e permesso di soggiorno a essenza del numero 9 quindi permesso di soggiorno per casi speciali con possibilità con durata biennale e possibilità di di conversione detto questo passo all'ultima parte di questa riflessione sul decreto legge Salvini andando invece ad affrontare un'altra problematica cioè quelle che possono essere fermo restando il quadro normativo che abbiamo di fronte un po' le nostre strategie di gestione come dire delle azioni giudiziarie e delle rivendicazioni che possiamo fare in sede giudiziaria rispetto appunto alla posizione in cui si verranno a trovare tanti richiedenti protezione è ovvio che il quadro normativo così come strutturato è suscettibile di numerose eccezioni di incostituzionalità e queste le andremo a vedere e cercheremo di agirle e cercheremo di portarle a termine per quanto riguarda le prospettive di gestione intertemporale quindi la parte che abbiamo visto prima abbiamo un po' insomma esaminato quelle che possono essere le strategie le migliori strategie da mettere in campo almeno quelle che ci vengono in mente in questo momento poi ce ne saranno altre adesso vediamo un po' però anche quali possono essere le nostre strategie a stato normativo stabilizzato cioè se il decreto legge rimane così per le nuove richieste di protezione cioè per quelle che integralmente andranno a finire nella nuova disciplina ora da questo punto di vista il problema della abrogazione la protezione umanitaria è un vuoto che noi qualsiasi strategia ci andiamo ad inventare non riusciamo a colmare questo è fuori discussione e per questo quindi l'azione dovremo spostarla sul piano dell'incostituzionalità eccetera detto questo cosa possiamo fare però per ridurre il danno per darci qualche margine di manovrabilità quali sono le coordinate che possiamo seguire allora io credo che le coordinate fondamentalmente sono queste intanto dobbiamo recuperare la la validità precettiva immediatamente precettiva dell'articolo 10 comma 3 della costituzione cioè dobbiamo ridare vita autonoma all'asilo costituzionale l'articolo 10 comma 3 della costituzione cosa dice dice lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge secondo le condizioni stabilite dalla legge la legge che consentiva di applicare questo precetto era proprio quella composta dalla normativa in materia di protezione umanitaria quindi la legge adesso non c'è più non c'è più la legge che consentirebbe di dare attuazione a questo a questo articolo allora qui torna in voga una questione vecchia la questione dell'asilo costituzionale è una questione molto vecchia io personalmente feci diversi ricorsi per il riconoscimento dell'asilo costituzionale tantissimi anni fa sostenendo che cosa che quell'articolo di legge quell'articolo della costituzione ha una portato immediatamente precettivo cioè se non c'è la legge che ne disciplina l'attuazione questo non significa che quell'articolo rimane disattivato significa che va applicato direttamente così com'è quindi sulla base di questo assunto io come altri tanti anni fa facemmo diversi ricorsi dove si chiedeva proprio l'asilo costituzionale in applicazione dell'articolo 10,3 della costituzione ora su questa cosa c'è stata nel corso degli anni una lunga querelle tra chi diceva che l'articolo 10,3 in mancanza di una norma di attuazione è immediatamente precettivo e quindi va comunque applicato e chi diceva no quell'articolo ha una portata programmatica cioè è un intento quindi se poi non c'è una legge che lo attua tu non lo puoi attuare questa querelle questo dibattito giuridico si è spostato nelle aule di tribunale e dopo alcune sentenze diciamo più o meno collocate nel 97 negative poi a poco a poco invece sia i tribunali che la corte di cassazione quella volta hanno iniziato a convergere in una interpretazione che diceva no l'articolo 10,3 è immediatamente precettivo ad aiutare secondo me questo sviluppo della giurisprudenza è stata anche la nota vicenda di Ocalan non so se qualcuno se la ricorda Ocalan si trovava in territorio italiano fece richiesta di asilo costituzionale al tribunale di Roma e il tribunale di Roma con una sentenza del primo ottobre del 1999 riconobbe ad Ocalan l'asilo costituzionale ai sensi proprio dell'articolo 10,3 riconoscendo portata immediatamente precettiva a quell'articolo di legge la beffa fu che quando il tribunale riconobbe il diritto di asilo Ocalan era già stato deportato in Turchia e stava già in carcere quindi vabbè questi sono i paradossi della storia però a prescindere dalla drammatica vicenda di Ocalan questa vicenda e le posizioni che prese all'epoca il tribunale di Roma furono importanti tanto che nel dicembre dello stesso anno quindi nel dicembre del 1999 fu proprio la corte di Cassazione a sezioni unite ad esprimersi con la sentenza numero 907 del 1999 sostenendo che l'articolo 10 comma 3 della Costituzione configura un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo anche in mancanza di una legge che del diritto stesso specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento a questo poi pronunciamento ne seguirono altri adesso è inutile ripercorrerli tutti quanti e quindi si andò verso l'affermazione di questa portata immediatamente precettiva dell'articolo 10 comma 3 ed ottenemmo io personalmente direttamente anche qui al tribunale di Ancona ho ancora le vecchie sentenze ottenemmo in varie occasioni il riconoscimento dell'asilo costituzionale poi questo canale però si è progressivamente chiuso per quale motivo perché poi dopo c'è stata la riforma della protezione internazionale cioè quando noi nel 99 nel 2000 2001 2002 facevamo le richieste di asilo costituzionale ancora c'era solamente lo status di rifugiato essenzialmente della convenzione di Ginevra non c'era la disciplina attuale che comprendeva anche la protezione sussidiaria ed anche la protezione umanitaria quando invece dopo il 2007 il quadro si è composto per cui status di rifugiato protezione sussidiaria e protezione umanitaria interpretata sempre di più dalla giurisprudenza come una legge attraverso cui avveniva l'attuazione dell'articolo 10,3 una volta che si è composto questo quadro poi sono iniziate le sentenze che dicevano l'asilo costituzionale non è più attivabile autonomamente perché c'è una normativa che permette di chiederne riconoscimento attraverso se stessa quindi la normativa in materia di protezione internazionale e su questo la Cassazione è stata chiara leggo un inciso della Cassazione di una Cassazione del 2012 che dice ha già affermato e la Cassazione la Suprema Corte ha già affermato ed il collegio qui ribadisce che il diritto di asilo è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione ad opera della esaustiva normativa di cui al decreto legislativo 251 del 2007 e dell'articolo 5,6 del testo unico approvato nel 98 sicché non si scorge più alcun margine residuale di diretta applicazione della norma costituzionale ma qui si parla dell'articolo 5,6 del testo unico cioè quello che il decreto legge ha abrogato cioè la protezione umanitaria quindi ad oggi è venuto meno proprio quel pezzo della protezione internazionale che faceva sì che l'asilo costituzionale non potesse più avere attivazione autonoma quindi io credo che assolutamente nelle nostre prospettive ci deve essere il recuperare a livello giudiziario l'asilo costituzionale come dinamica autonoma ed immediatamente precettiva cioè richiedere riconoscimento dell'asilo costituzionale nei nostri ricorsi un altro piccolo spazio piccolissimo spazio lo possiamo trovare lo possiamo gestire anche all'interno del nuovo articolo 32,3 perché nel nuovo articolo 32,3 si dice che viene rilasciato un permesso per protezione speciale a essenzio dei presupposti previsti dall'articolo 19,1 e 1.1 che sono quelli che abbiamo visto precedentemente ora come dicevamo prima il testo dell'articolo 19,1 e 1.1 ricalca in gran parte le previsioni che sono contenute nello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria in grandissima parte ma c'è una piccola un piccolo inciso in più un piccolo inciso in più che ci può essere che ci può essere utile perché nell'articolo 19,1 se adesso ritrovo il testo vado a memoria nell'articolo 19,1 si usano le stesse espressioni utilizzate per lo status di rifugiato quindi si parla di persecuzioni per motivi di razza di religione eccetera ma rispetto alle espressioni usate nel decreto legislativo 251 del 2007 e della stessa convenzione di Ginevra c'è un piccolo inciso in più cioè si fa riferimento anche a persecuzioni riconducibili a condizioni personali o sociali condizioni personali o sociali questo è quel piccolo di più che c'è rispetto ai presupposti per lo status di rifugiato questo piccolo di più possiamo gestirlo possiamo trovare modo di gestirlo pensiamo ad esempio al rapporto violento che si può venire a creare in un determinato contesto tra un debitore ridotto alla fame eccetera e un creditore che esige i suoi soldi che esige i suoi soldi e che magari in un paese in cui non ci sono adeguate protezioni eccetera ecco magari qui siamo di fronte ad una persecuzione legata a condizioni personali che forse avrebbe difficoltà ad entrare dentro il quadro giuridico dello status di rifugiato ma che potrebbe entrare dentro il quadro giuridico di quell'articolo 19,1 e quindi dentro i presupposti che consentono il rilascio del permesso per protezione speciale fermo restando che è un permesso limitatissimo però voglio dire qui stiamo ragionando sulla riduzione del danno quindi meglio un permesso limitato comunque che un rigetto totale e l'obbligo poi di lasciare il paese la terza coordinata e poi andiamo verso le conclusioni la terza coordinata però che io credo che noi dobbiamo cercare di forzare in maniera forte è anche la protezione sussidiaria la protezione sussidiaria perché nella protezione sussidiaria si fa riferimento lo sapete al pericolo al pericolo al rischio di un danno grave che può essere dovuto anche alla sottopposizione a rischio di sottopposizione a pene o a trattamenti inumani e degradanti quindi c'è il concetto di trattamenti inumani e degradanti ora noi abbiamo detto la protezione internazionale prima era triarticolata avevamo status di rifugiato protezione umanitaria protezione sussidiaria dentro questo contenitore dentro questo dispositivo possiamo immaginare questi questi istituti in osmosi tra loro quindi finché io avevo la protezione umanitaria proprio per questo rapporto smotico la protezione sussidiaria magari era più contenuta nella sua interpretazione ma visto che non ho più la protezione umanitaria dentro quel dispositivo i criteri interpretativi dei presupposti devono allargarsi è un meccanismo di fisica giuridica non so se si può dire comunque devono allargare dobbiamo tentare di allargarli la giurisprudenza non ci facilita su questo perché gran parte della giurisprudenza riconnette il concetto di trattamento inumano degradante al concetto di pena cioè li associa effettivamente per come è scritto l'articolo sei portato ad associarli però è anche vero che alla luce dell'assenza della protezione umanitaria noi possiamo invece provare a dissociare i concetti cioè a dire che il trattamento inumano e degradante non è una caratteristica della pena ma il trattamento inumano e degradante ha una sua valenza autonoma e per quanto mi riguarda un soggetto che viene da un paese in cui c'è la carestia e se lo rimandiamo è un soggetto che è rimandato nel suo paese morirebbe di fame è un soggetto che viene sottoposto a un trattamento inumano e degradante quindi dobbiamo lavorare non perché questo ci garantisca da subito chissà quali i risultati ma dobbiamo lavorare anche con i nostri ricorsi anche con i nostri interventi interpretativi per allargare e autonomizzare il concetto di trattamento inumano e degradante anche quando rimane una parte inascoltata del ricorso non importa dobbiamo lavorare a costruire una cultura e un'interpretazione giuridica di quel tratto che ci permette di recuperare una parte almeno della protezione umanitaria che abbiamo purtroppo perso per le decisioni assunte dal governo in carica detto questo e vado proprio alla conclusione ricordo e lo facevo all'inizio e quindi e lo faccio quindi per completezza alla fine che il decreto legge 113 del 2018 non si limita a trattare le materie che abbiamo visto oggi e quindi tutte le problematiche che queste comportano ma tratta anche altre materie per esempio modifica anche la disciplina della cittadinanza la normativa della cittadinanza rendendo revocabile la cittadinanza già acquisita rendendola revocabile nei confronti di chi si nei confronti di chi magari è condannato per attività con finalità di terrorismo di eversione è sempre il discorso che facevo prima no? cioè fai passare dei principi attaccandoli inizialmente a delle situazioni che possono essere risposte all'udibrio sociale ma facciamo attenzione il passaggio è di una gravità estrema cioè se io sono cittadino italiano indipendentemente da come lo sono diventato per residenza perché mi sono sposato perché sono nato in Italia se io e ho fatto la dichiarazione che voglio la cittadinanza italiana se io sono cittadino italiano e commetto un reato grave mi condanni gravemente mi darai l'ergastolo non lo so ma come può essere concepibile che a un certo punto io cittadino italiano commetto reato e non sono più cittadino italiano ma è una cosa spaventosa cioè noi rendiamo disponibili delle cose che dovrebbero essere assolutamente indisponibili perdere la cittadinanza significa perdere tanto significa trovarsi in una condizione di smarrimento anche dal punto di vista giuridico anche dal punto di vista dell'accesso a tutta una serie di istituti magari collessi e collegati anche alla detenzione cioè è una cosa gravissima e e oltre a questo ci sono una serie di misure che riguardano come dicevo prima invece la questione sicurezza tra virgolette della nostra città guarda caso dentro la questione sicurezza diventano terreno di intervento proprio quelle fattispecie penali che più hanno a che fare con l'agitazione sociale con le forme di opposizione sociale considerate che il reato di invasione dei edifici quindi le occupazioni che comunque se ne pensi sono in ogni caso un fenomeno sociale cioè non è un fenomeno di criminalità è un fenomeno sociale rispetto al quale devi disporre dei strumenti di intervento sociali bene per i promotori delle azioni di occupazione eccetera eccetera le pene vengono raddoppiate da due a quattro anni e il reato di occupazione viene inserito tra quelli che giustificano le intercettazioni che è una cosa paradossale e viene introdotto il nuovo reato guarda caso di blocco stradale dove però il blocco stradale non è semplicemente il blocco qualsiasi forma di ostruzione delle strade e il reato che viene introdotto è un reato che va da uno a sei anni il DASP urbano viene esteso anche ai presidi sanitari quindi c'è uno spirito complessivo che attraversa questo decreto legge che pone fortemente in discussione in crisi alcuni tratti fondamentali dello stato di diritto e quindi questo ci interroga sicuramente come avvocati come operatori che lavorano in un determinato settore rispetto a quello che possiamo fare a quello che possiamo gestire anche dal punto di vista tecnico però credo che ci interroghi anche come persone interroga le nostre coscienze interroga le nostre menti interroga la necessità della presa di parola e della presa di iniziativa perché come dicevo all'inizio se immaginiamo il decreto come un edificio con delle porte delle finestre il problema è che questo edificio c'ha pure degli scantinati e in quegli scantinati ci stanno mettendo i diritti fondamentali delle persone e questo credo che debba farci riflettere tutti quanti anche su quello che è la necessità di una presa di coscienza collettiva e anche di una presa di iniziativa collettiva grazie grazie grazie